Buongiorno a tutti, mi presento, sono Candino Mandatori, un ingegnere gestionale lavorato presso la Sapienza di Roma con l'Aura Magistrale nel 2014. Terminato questo percorso di studi, ho conseguito anche l'abilitazione per Ingegneria dell'Informazione e l'Ingegneria Industriale e sono iscritto presso l'Albo degli Ingegneri della provincia di Roma nella sezione A. Ho conseguito tra il 2016 e il 2017 anche un Master Universitario di secondo livello in Ingegneria dell'Impresa presso l'Università Tor Vergara di Roma. Ho conseguito poi anche nel 2018 la certificazione Yellow Belt del Six Sigma. Durante tutto il mio percorso professionale mi sono sempre occupato di gestione dell'innovazione, di trasformazione, di integrazione fra processi. È per questo che ho scelto di seguire e conseguire il Master di Alta Formazione in Project Management di Alma Laboris perché sono convinto che mi sta dando quegli strumenti che potrò applicare appieno nel mio lavoro per crescere, per gestire i progetti sempre più con una pianificazione più accurata e di dettaglio. Sono convinto che questo Master mi farà crescere professionalmente e mi darà appunto quegli stimoli, quegli strumenti che potrò applicare quotidianamente al lavoro. Sono molto contento del Master, i docenti del Master sono veramente molto preparati, ci danno lezione per lezione molti concetti in maniera strutturata. Consiglio questo Master davvero a chi come me ha voglia di crescere in un ambito, ovvero quello del Project Management, che sia in ambito classico, waterfall, sia in un ambito più agile, ha veramente grandi potenzialità. Grazie. Grazie.